Importanti notizie dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Elementare, delle Foreste e per i nostri imprenditori agricoli marchigiani colpiti dalla grave alluvione occorsa nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorso. Il Ministro Francesco Lollobrigi ha infatti firmato un decreto con il quale riconosce il carattere della eccezionalità agli eventi di quella notte e così apre la strada per l'accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale per il ripristino delle infrastrutture e delle strutture poste al servizio dell'attività agricola. Ben 56 i comuni che potranno soffrire di questo provvedimento, comuni posti nelle province di Piesa Urbino, Ancona e Macerata. Ancora una volta i parlamentari marchigiani si sono rivelati fondamentali, cinghia di trasmissione tra il Governo regionale del Presidente Francesco Acquaroli e il Governo nazionale preseduto da Giorgia Meloni.